la legge della vita london il vecchio couscous ascoltava tutto avidamente benché la sua vista se ne fosse andata da un pezzo l'udito era ancora fine e il suono più debole raggiungeva la tremolante intelligenza che ancora dimorava dietro la sua fronte avvizza ma che ormai non si occupava più delle cose concrete del mondo ah quella alla voce di sit kum toa che strilla maledicendo i cani mentre cerca di costringerli a calci e a pugni sotto le bardature sit kum toa era la figlia di sua figlia ma era troppo indaffarata per concedere un pensiero al suo misero nonno seduto solo là nella neve abbandonato e senza aiuto bisognava levare il campo la lunga pista attendeva mentre il breve giorno rifiutava di attardarsi la vita la chiamava con i suoi compiti con la morte e lui era molto vicino alla morte adesso al pensiero il vecchio fu colto da un panico improvviso e stese una mano tremante che vagò ansiosa fino ad incontrare una piccola catasta di legna secca vicino a lui l'assicurato che il mucchio fosse davvero lì ritirò la mano al riparo delle sue pellicce tignose e si dispose di nuovo ad ascoltare il tetro crepitare delle pelli quasi ghiacciate gli disse che era stata battuta la tenda del capo fatta di pelli d'alce e che ora la stavano ripiegando e comprimendo per poterla trasportare il capo era suo figlio robusto e forte formidabile cacciatore guida dei guerrieri della tribù mentre le donne si affaticavano per il campo con i loro fardelli la sua voce si levò a rimproverarle per la loro lentezza il vecchio coscus tese l'orecchio era l'ultima volta che avrebbe sentito quella voce poi se ne andò la tenda di ghio e quella di tuscain sette otto nove solo la capanna dello sciamano rimaneva ancora in piedi ecco ora si mettevano al lavoro su di essa il vecchio poteva udire lo sciamano borbottare mentre ammucchiava le pelli sulla slitta un bambino cominciò a piegnucolare e una donna lo calmò con una dolce monotona cantilena gutturale il piccolo guti pensò al vecchio un bambino irritabile e non molto robusto sarebbe morto presto forse ed essi avrebbero fatto una buca col fuoco nella tundra ghiacciata e sopra avrebbero ammucchiato delle pietre per tenere lontani i ghiottoni ma che importava un po' di anni con la pancia vuota o piena e poi alla fine sarebbe arrivata la morte che non è mai sazia la più affamata di tutti cos'era questo? oh gli uomini legavano le slitte e tendevano le cinghie il vecchio ascoltò lui che non avrebbe più ascoltato le fruste schioccarono minacciose tra i cani sentili uggolare ah come odiano il lavoro e la pista ed ecco erano partiti una slitta dopo l'altra scivolando lentamente nel silenzio se ne erano andati erano usciti dalla sua vita ed egli affrontava da solo l'ultima ora amara no la neve scricchiolò sotto un mocassino un uomo si fermò vicino a lui e gli posò una mano sulla testa con delicatezza suo figlio era buono a fare così egli ricordò altri vecchi i cui figli non avevano aspettato dopo la partenza della tribù ma suo figlio si aveva atteso egli si perse lontano nel passato finché la voce del giovane non lo portò indietro è tutto a posto? chiese il vecchio rispose lo è c'è la legna vicino a te continuò il giovane e il fuoco brucia vivace la mattina è grigia e il freddo è diminuito nevicherà presto sta già cominciando a nevicare sì, comincia a nevicare gli uomini della tribù hanno fretta i loro bagagli sono pesanti e il loro ventre è vuoto per la mancanza di cibo la pista è lunga ed essi procedono veloci devo andare ora va bene? va bene io sono come una foglia dell'anno scorso sospesa appena appena al picciolo il primo alito di vento e cade la mia voce è diventata come quella di una vecchia i miei occhi non mi mostrano più il cammino i miei piedi sono pesanti e io sono stanco va bene abbassò il capo finché non si spense l'ultimo gemito della neve calpestata e seppe che suo figlio si era ormai irrevocabilmente allontanato la sua mano corse rapidamente alla legna questa sola rimaneva a separarlo dall'eternità che immensa lo attendeva una manciata di fascina era la misura della sua vita una dopo l'altra sarebbero andate ad alimentare il fuoco e così passo passo la morte gli sarebbe arrivata vicino quando l'ultimo pezzetto di legno avesse ceduto il suo calore il gelo avrebbe cominciato a serrare la sua morsa per primi si sarebbero arresi i piedi poi le mani l'intirizzamento avrebbe proceduto lentamente dalle estremità del corpo la testa sarebbe caduta avanti sulle ginocchia ed egli avrebbe riposato era facile tutti devono morire non si lamentava era il cammino della vita ed era giusto era nato vicino alla terra aveva vissuto a contatto con la terra e perciò la legge non era nuova per lui era la legge di tutti i corpi la natura non si preoccupava del corpo non si curava di quella cosa concreta chiamata individuo e suo interesse per la specie la razza questa era la più profonda astrazione di cui fosse capace la mente primitiva di cuscuche ma gli era molto chiara ne vedeva l'esempio in tutta la vita il sorgere della linfa il verde della gemma del salice che sboccia la caduta delle foglie gialle e in questo soltanto consisteva tutta la storia ma la natura aveva assegnato un compito all'individuo se questi non lo eseguiva moriva se lo eseguiva era lo stesso moriva la natura non se ne curava c'erano molti obbedienti e soltanto l'obbedienza aveva importanza non l'obbediente che viveva e riviveva sempre la tribù di cuscuche era molto antica i vecchi che aveva conosciuto quando era un bambino avevano a loro volta conosciuto altri vecchi prima di loro perciò era vero che la tribù viveva che era esistita fin nel lontano passato grazie all'obbedienza di tutti i suoi membri dei quali si era ormai dimenticato persino il luogo dell'ultimo riposo essi non avevano importanza erano episodi scivolati via come nuvole da un cielo estivo anche lui era un episodio e sarebbe trascorso la natura non se ne curava alla vita assegnava un compito dava una legge perpetuare era il compito della vita la morte la sua legge una fanciulla era una creatura meravigliosa da guardare rigogliosa col bel seno forte la primavera nel passo e la luce negli occhi ma un compito l'attendeva gli occhi si facevano brillanti il passo più veloce ora audace con i ragazzi ora timida d'improvviso comunicava loro la sua stessa inquietudine cresceva una bella donna ancora più bella da guardare finché un cacciatore non più capace di trattenersi la prendeva nella sua tenda a cucinare a faticare per lui e ad essere madre dei suoi figli con l'arrivo della prole la bellezza l'abbandonava le membra si appesantivano gli occhi si annebbiavano e soltanto i bambini piccoli provavano gioia a strofinare i loro visetti contro le guance appassite della vecchia seduta accanto al fuoco il suo compito era adempiuto ma poco dopo alla prima carestia o alla prima lunga pista sarebbe stata abbandonata come lui nella neve con una piccola catasta di legna questa era la legge depose accuratamente un bastoncino sul fuoco e riprese la sua meditazione era così dappertutto per tutte le cose le zanzare sparivano col primo freddo i piccoli scoiattoli degli alberi si trascinavano in qualche posto a morire gravato dall'età il coniglio diventava lento e pesante e non poteva più sfuggire ai suoi nemici anche il grande faccia pelata diventava goffo cieco e ringhioso per essere abbattuto alla fine da un pugno di cani latranti ricordava come aveva abbandonato suo padre lassù nel Klondike un inverno lungo un tratto dritto del fiume l'inverno prima che il missionario venisse col suo libro di parole e la scatola delle medicine molte volte Cush Cush aveva fatto schioccare la lingua al ricordo del contenuto di quella scatola ormai le sue labbra si erano inalidite l'ammazzadolori era davvero squisito ma il missionario era una seccatura dopo tutto perché non portava carne al campo e mangiava abbondantemente e i cacciatori brontolavano si gelò i polmoni sulle montagne del maio e i cani dopo un po' ficcando il naso tra le pietre si azzuffarono per le sue ossa Cush Cush sistemò sul fuoco un altro po' di legna e tornò col pensiero nel lontano passato c'era stato il tempo della grande carestia quando i vecchi si accovacciavano accanto al fuoco con la pancia vuota e lasciavano fluire dalle labbra le vaghe tradizioni di quegli antichi giorni quando lo Yukon era scorso libero per tre inverni ed era rimasto ghiacciato per tre estati aveva perso sua madre in quella carestia in estate i salmoni non avevano potuto risalire il fiume e la tribù aveva aspettato l'inverno e l'arrivo dei caribù l'inverno era venuto ma senza condurre con sé i caribù non si era mai sentita una cosa simile neppure a memoria dei vecchi ma i caribù non vennero ed era il settimo anno e le coniglie non erano più impregnate e i cani non erano altro che fastelli di ossa e durante le lunghe tenebre i bambini gemevano e morivano e le donne e i vecchi neppure uno su dieci della tribù visse abbastanza per incontrare il sole quando tornò la primavera quella fu una carestia ma aveva anche visto tempi di abbondanza quando la carne si sprecava e i cani erano grassi e inutili per il troppo cibo i tempi in cui si lasciava andare la selvaggina senza ucciderla e le donne erano fertili e le tende erano scompigliate dalle baruffe dei bambini e delle bambine fu allora che gli uomini divennero altezzosi e ravvivarono vecchie contese e attraversarono le montagne al sud per uccidere Pellis e fu allora che sedettero attorno ai fuochi rispenti dei tananas al di là delle montagne dove tramonta il sole e gli ricordava quando una volta da ragazzo durante il tempo dell'abbondanza vide la lotta mortale fra un alce e i lupi Zing Ha era disteso con lui nella neve e guardava Zing Ha che poi diventò il più abile dei cacciatori e che alla fine cadde in una sacca d'aria nello Yukon lo trovarono un mese dopo irrigidito nel ghiaccio che lo aveva attanagliato quando ormai era già fuori per metà dalla buca li vedeva la scena dell'alce Zing Ha e lui quel giorno erano andati in giro a giocare alla caccia imitando i loro padri sul letto del fiume trovarono le tracce fresche di un alce insieme a quelle di molti lupi una bestia vecchia disse Zing Ha che era il più svelto a leggere le orme un vecchio animale che non riesce più a seguire i suoi fratelli i lupi l'hanno tagliato fuori dal branco e non lo lasceranno più e così era andata secondo il loro sistema di giorno e di notte incalzandolo senza sosta saltandogli sotto il naso lo avrebbero accompagnato fino alla fine come si era accesa nei due ragazzi la volutà del sangue la fine doveva essere uno spettacolo da vedere avevano seguito la pista con grande impazienza e anche lui coscusce debole di vista e poco esperto non avrebbe smarrita neppure alla cieca tanto era larga tutti accaldati avevano tenuto dietro alla caccia leggendo la feroce tragedia scritta di fresco sulla neve erano giunti al luogo dove l'alce aveva opposto una prima resistenza per un tratto lungo tre volte il corpo di un uomo adulto in ogni direzione la neve era calpestata e sconvolta in mezzo c'erano le profonde impronte dell'animale dai larghi zoccoli piatti e tutto intorno ovunque c'erano le orme leggere dei lupi qualcuno mentre i suoi fratelli si precipitavano all'assalto si era disteso su un fianco per riposarsi l'impronta allungata lasciata dai loro corpi sulla neve era perfetta come fosse stata fatta un momento prima un lupo era stato sorpreso da un balzo selvaggio della vittima impazzita e calpestato a morte le ossa puntite che lo avevano trapassato ne erano la prova i due ragazzi avevano poi incontrato seguendo le tracce un secondo luogo di lotta qui il grande animale aveva combattuto disperatamente per due volte era stato abbattuto come mostrava lo strato della neve e per due volte si era scrollato di dosso gli assalitori riconquistando di nuovo l'equilibrio aveva fatto per molto tempo il suo dovere ma non per questo la vita era stata indulgente con lui Zing Ha aveva detto che era molto strano che un alce gettato a terra riuscisse a tornare di nuovo libero ma certamente era andata così lo sciamano ne avrebbe tratto auspice e presagi e ancora si erano spinti fin dove l'alce aveva cercato di salire sulla riva del fiume per guadagnare la foresta ma i suoi nemici l'avevano attaccato da dietro finché non si era impennato per ricadere poi su di loro schiacciandone due nella neve era chiaro che la fine era vicina perché i rupi avevano lasciato intatti i fratelli caduti c'erano stati subito altri due combattimenti brevi e ravvicinati la neve era rossa ormai e il passo deciso della grande bestia si era fatto breve e riluttante infine avevano udito i primi suoni della battaglia non il coro a piena gola della caccia ma il breve ringhioso latrato che parlava di lotta serrata e di denti nella carne zing ha aveva proceduto carponi nella neve strisciando controvento e con lui anche cuscusc che sarebbe diventato capo della tribù negli anni futuri entrambi avevano guardato attraverso i rami bassi di un giovane abete osservando tutto attentamente quello che avevano visto era la fine la scena come tutte le impressioni dell'infanzia e i suoi deboli occhi la rividero vivida come in quel tempo lontano cuscusc si meravigliò di questo particolare ricordo perché nei giorni che erano seguiti quando era stato condottiero di uomini e capo di consigli aveva compiuto grande imprese e il suo nome era diventato famoso tra le montagne dei pellis per non parlare degli strani uomini bianchi che aveva ucciso col coltello corpo a corpo in aperto combattimento meditò a lungo sui giorni della sua infanzia finché il fuoco non si abbassò e il freddo cominciò a farsi pungente lo ravvivò con due pezzetti di legno e misurò la vita che gli rimaneva se solo Sit-Kum-Toha si fosse ricordata di suo nonno e avesse raccolto una bracciata di legna più grande le sue ore sarebbero state più lunghe sarebbe stato facile ma quella era sempre stata una ragazza sventata e non pensava più al nonno da quando Castoro il figlio del figlio di Zing-Ha le aveva gettato gli occhi addosso bene che importava non aveva forse fatto lui lo stesso nella sua vivace giovinezza per un momento ascoltò il silenzio chissà forse il cuore di suo figlio si era intenerito ed egli tornava coi cani a prendere il vecchio padre per condurlo insieme alla tribù là dove i caribù fuggono lenti appesantiti dal grasso tese l'orecchio e la sua mente inquieta si placò per un attimo non un movimento nulla lui solo respirava nel grande silenzio ascolta che cos'era un brivido lo percorse un familiare urlo prolungato ruppe il silenzio ed era vicinissimo davanti ai suoi occhi oscurati riapparve la visione dell'alce il vecchio alce maschio con i fianchi laceri e insanguinati la criniera strappata e le grandi corna ramificate cadenti e spezzate alla fine vide balenare le sagome grigie gli occhi scintillanti le lingue pendenti e le zanne coperte di bava e vide l'inesorabile cerchio stringersi fino a diventare una macchia scura in mezzo alla neve calpestata un muso freddo gli sfiorò la guancia e questo contatto lo riportò bruscamente al presente la sua mano corse al fuoco e ne trasse un tizzone infiammato sopraffatto per il momento dalla paura ereditaria dell'uomo l'animale si ritirò lanciando ai fratelli un prolungato richiamo ed essi rispose ravidamente finché non si formò attorno un cerchio di macelle di grignanti e di corpi grigi accovacciati il vecchio sentiva stringersi l'assedio agitò selvaggiamente il suo tizzone e il fiuto si trasformò in ringio ma non vollero disperdersi ora uno si faceva avanti con cautela avanzando prima il petto e tirandosi poi dietro i fianchi ora un altro e un terzo ma nessuno indietreggiava perché aggrapparsi alla vita e gli si chiese gettando nella neva il bastone infiammato questo sfrigolò e si spense il cerchio grugnì inquieto ma rimase al suo posto ancora una volta Cuscusc rivide la battaglia del vecchio alce maschio e lasciò ricadere stancamente la testa tra le ginocchia ma che importava dopo tutto non era questa la legge della vita grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti